La mia generazione viaggia veloce, non accetta limiti, cerca orizzonti. Vuole vivere in città sempre nuove, che cammino nell'arco di un giorno o di una notte. La mia generazione non vuole sentirsi dire quello che è già stato detto. La mia generazione sa che l'apparenza spesso non inganna, conosce colori che raccontano e linee più sincere di uno sguardo. La mia generazione ha capito che quello che conta è il mezzo. Tutte le storie prima o poi hanno una fine. Ma ci sono quelle che non finiscono mai. Lambretta Get Real Go 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 Real